Buongiorno e benvenuti alla formazione online di Netgear, sono Andrea Rossi, System Engineer del team italiano. Oggi parleremo di Orbi, la soluzione semplice per una rete wifi performante senza bucchi di copertura per l'ufficio. Andiamo a vedere rapidamente Orbi, per chi di voi non ha ancora visto materiale, quindi informazioni, brochure oppure le pagine sul nostro sito. Questa è di fatto la fotografia del kit iniziale denominato RBK50 che è in distribuzione in questi giorni, quindi disponibile veramente da poco tempo. In questa fotografia quello che voglio farvi evidenziare è che nel kit comunque in ogni soluzione Orbi è prevista la presenza di un router che vediamo qua rappresentato sulla parte sinistra della slide che ha quella copertura, quel top di colore azzurro, mentre il satellite abbinato nello starter kit iniziale ha un top bianco. Tutti i satelliti hanno un top di colore bianco, questo proprio per fisicamente andare a distinguere i dispositivi. In realtà ci sono delle caratteristiche hardware che distinguono e dal punto di vista di installazione Orbi permette l'installazione di un singolo sistema router e di uno o più satelliti. Andiamo a vedere quelle che sono le differenziazioni dal punto di vista hardware. Quello che vedete sulla parte sinistra è il router e quindi il router dispone di una porta internet che sarà la nostra porta di uplink nei confronti del nostro gateway verso internet, tre porte gigabit internet, pulsante di sincronizzazione per la parte di registrazione dei satelliti, pulsante di accensione reset, le classiche dotazioni hardware. Come vedete il satellite non dispone di una porta internet ma dispone di ben quattro porte gigabit, quindi di uno switch interno. Quindi laddove ovviamente andiamo a posizionare anche il satellite all'interno della nostra costruzione avremo disponibilità di ulteriori quattro porte gigabit internet per la connessione di dispositivi o per il rilancio fondamentalmente di ulteriori connessioni di piccoli switch in locale. Questo per andare a utilizzare Orbi anche come soluzione di bridging wifi all'interno dello stesso building, quindi andando poi a derivare piccoli switch localmente. Per quello che riguarda il posizionamento, adesso le grafiche che ho a disposizione sono grafiche tipicamente di ambienti domestici ma considerate comunque ovviamente l'ufficio non di eccezionali dimensioni ma un ufficio che abbia una metratura, una copertura attorno ai 300 metri quadri, 500 metri quadri. Quindi fondamentalmente Orbi ci permette di andare a coprire queste aree e non pensiamo i 500 metri quadri esclusivamente come estensione orizzontale ma anche come un'estensione considerata su multipiano, quindi dove abbiamo la possibilità ovviamente di coprire più piani con la soluzione. In questa slide vediamo il posizionamento fondamentalmente di un router che è quello cerchiato in rosso e di due satelliti, due satelliti che vengono posizionati, in questo caso sono all'estremità dell'abitazione e quindi ovviamente abbiamo intenzione anche di andare a coprire parti esterne all'abitazione, alla costruzione stessa. Per quello che riguarda le caratteristiche vedremo successivamente come andare a posizionare e in che modo lavorano i sistemi. Vediamo le caratteristiche dei dispositivi, quindi l'efficio. Una delle novità introdotte da Orbi che ovviamente permettono l'utilizzo di Orbi anche in ambito non solamente domestico ma in ambito professionale è il fatto che il sistema è un sistema 3 band e supporta il band steering come funzionalità. Andiamo in ordine. Fondamentalmente all'interno del sistema Orbi esistono tre radio, quindi è un sistema 3 band dove una radio a 2.4 GHz fornisce connettività di tipo 11BGN ai client, 5 GHz fornisce connettività a non altissima velocità, vediamo poi i dettagli, ai client 11A, N e AC e invece la radio più potente che viene dedicata al backhaul, il backhaul che è praticamente la connessione tra i dispositivi, quindi tra i router e i satelliti che andiamo a installare all'interno della nostra struttura. Quindi fondamentalmente in termini, perché parlavo di velocità basse, quello che vedete indicate poi in queste box centrali della slide sono le velocità che possiamo ottenere sulla radiofrequenza 2.4 GHz, ovvero 400 Mbps, sulla radio a 5 GHz per l'accesso otteniamo velocità massime di 867 Mbps e la radio invece ad alte prestazioni che viene utilizzata per il backhaul, per il disegno della dorsale, quindi la comunicazione dorsale tra i dispositivi è di 1.7 GHz per secondo. Quindi fondamentalmente in questa configurazione la connessione di backhaul non è in alcun modo il call di bottiglia. E qui sorge subito la prima domanda, ma differenziazione, ma Orbi che tipo di soluzione è? È una soluzione di repeater, di extender? Voi sapete benissimo che laddove utilizziamo repeater, dove utilizziamo extender? Tipicamente utilizziamo la banda che viene utilizzata dai client, che quindi viene dedicata all'accesso anche per la ripetizione del segnale, per l'estensione del segnale. Quindi fondamentalmente allontanandoci da quella che è la sorgente originale della nostra rete Wi-Fi, man mano che ci allontaniamo e quindi man mano che utilizziamo dei dispositivi di ripetizione del segnale, perdiamo quella che è la capacità di ogni singolo repeater in termini di banda erogabile, in quanto parte di quella banda verrà dedicata per la comunicazione verso il dispositivo centrale. Qui non avviene. Altre soluzioni presenti sul mercato di altri vendor che sembrano similare ad Orbi, in realtà sono di tipo dual band, quindi anche esse utilizzano banda di accesso per la comunicazione, per la comunicazione di back-all tra i dispositivi e questo ovviamente come potete bene immaginare significa andare a restringere la banda a disposizione reale per l'accesso nei confronti di internet e quindi di avere un collo di bottiglia. Quindi fondamentalmente questa è la grossa differenza con le soluzioni basate su extender, basate su repeater wireless. Come vedete nella box in basso sono indicati un supporto simultaneo sino a 250 client. Consideriamo che ovviamente in un ambiente di tipo professionale qui si dà un'indicazione massima di 50 client su una rete realizzata tramite Orbi, ma client che ovviamente generano traffico, quindi generano traffico in modalità continuativa e ovviamente con volumi sensibili. Quindi di fatto quei 50 client vediamolo spinto in condizioni di esercizio elevato con un massimo di contemporaneità di 30 dispositivi, ma consideriamo questi 30 dispositivi come 30 pc o 30 dispositivi mobili che stanno utilizzando pesantemente la banda wifi e quindi l'accesso nei confronti di internet a tutti gli effetti. Vedremo poi come diversificare e come andare a proteggere l'accesso nei confronti di internet e quindi di una risorsa che ovviamente non è mai di tipo infinita purtroppo e solitamente con prestazioni decisamente molto inferiore rispetto a quella che è la capacità della nostra rete wifi. In questo slide vediamo quello che oggi è la tecnologia Orbi e quindi in una configurazione dove abbiamo due satelliti, entrambi i satelliti si collegano direttamente al router. Quindi dal punto di vista dell'implementazione, del disegno, del posizionamento dei dispositivi abbiamo appunto, dobbiamo legarci a questo tipo di impostazione. Quindi fondamentalmente il backhaul viene utilizzato per la connessione ai due satelliti, ciascun satellite fondamentalmente eroga la capacità di banda wifi locale per andare a offrire la copertura necessaria. Ogni singolo dispositivo Orbi è in grado di coprire circa, ovviamente questo dipende poi dall'ambiente, dalla tipologia di muri, di ostacoli all'interno, di circa 180 metri quadrati. Quindi considerando l'utilizzo di tre dispositivi, quindi un router più due satelliti, potremmo pensare di arrivare attorno a 500 metri quadrati di copertura, considerando anche multipiano. Quindi con la copertura abbastanza importante per quello che riguarda appunto lo schema di un ufficio di medie, piccole dimensioni. Quindi questa è l'attuale situazione. Nel prossimo futuro, con un aggiornamento di firme, in realtà verrà modificata anche la modalità di comunicazione, quindi come il backhaul viene sviluppato tra i dispositivi e sarà possibile fondamentalmente che ci siano connessioni di backhaul non più basate su una stella, quindi dove il router debba trovarsi fondamentalmente nel mezzo, ma dove avremo la possibilità di avere un mesh, quindi una catena di connessione sfruttando sempre quella che è la terza radio dedicata al backhaul. Questo non è attualmente disponibile. Una delle funzionalità fondamentali che vengono offerte appunto dal sistema Orbi è quello di dare un'esperienza di seamless roaming, quindi di avere una copertura globale che permetta alla persona che vediamo nella parte in basso a destra della slide, muovendosi in mobilità, in connessione, di non perdere mai connettività ovviamente nel movimento, nessun movimento all'interno dell'area di copertura della nostra rete, quindi fondamentalmente di garantire una copertura che permetta una modalità seamless roaming, quindi ovviamente con il mantenimento della sessione attiva un po' quello che è il comportamento che abbiamo con soluzioni di tipo professionale con controller centralizzato. Qui il sistema ovviamente ha una memoria, una memoria, un'intelligenza centrale che è sulla parte del router e che attua quasi come l'intelligenza presente all'interno del controller hardware per soluzioni ovviamente di taglio più grande che tipicamente andiamo a utilizzare in ambienti molto più complessi. Le funzionalità di base, questa è la schermata di logon iniziale dove vediamo praticamente quelle che sono le informazioni relativamente uno alla connettività di internet e due allo stato della rete wireless interna, uno lo stato della rete dedicata agli ospiti e l'informazione di riepilogo di tutti i dispositivi che sono collegati alla nostra rete wifi implementata con Orbi. Per quello che riguarda configurazioni avanzate nella parte di connessione ad internet per la nostra porta One, abbiamo la possibilità ovviamente di andare a modificare il MAC address nel caso in cui ci siano vincoli con il MAC address nei confronti del gateway che ci dà connettività ad internet e quindi nel caso in cui si debba modificare questa informazione o non si volesse utilizzare il MAC address originale del dispositivo router, abbiamo in questa pagina la possibilità di modificare con le due opzioni dando come indicazione uno nel caso di utilizzare il MAC address che è il MAC address del computer con cui stiamo facendo accesso in management nei confronti appunto del dispositivo e quindi verrà clonato il MAC address della nostra scheda di rete e quel MAC address non andrà in conflitto perché si troverà sulla zona One del router ma che permetterà in un qualche modo il funzionamento appunto del sistema. Oppure abbiamo la possibilità di editare a piacere ovviamente con un formato di MAC address che sia plausibile questo valore e quindi andando magari a rimpiazzare un dispositivo che era vincolato al livello di MAC address. Quindi questo è già un esempio di configurazione avanzata del sistema. Per la parte di configurazione della parte wireless qui vediamo tutta una serie di informazioni, di slide che lasciano pensare ad una complessità elevata di configurazione ma vi garantisco che l'attivazione di un sistema Orbi è banale nel senso che è un'operazione rapidissima in quanto oltre alla registrazione di un account per il management del sistema ci sarà una fase di registrazione dei satelliti, una fase dove andremo a definire la rete che verrà di fatto distribuita in modalità band steering quindi dando lo stesso SSD sia per la radio d'accesso a 2.4 GHz che per la radio d'accesso a 5 GHz. Quindi avremo una singola configurazione che verrà utilizzata per entrambe le radio d'accesso. Qui avremo ovviamente la possibilità di utilizzare in questo caso come vedete abbiamo supporto di VPA2, una modalità VPA mista quindi con retrocompatibilità con dispositivi che supportano solo VPA2, come vedete non è presente supporto per la modalità Enterprise ma stiamo parlando di una soluzione ovviamente per l'ufficio dove quindi non ci aspettiamo di avere un server radio sattivo o sistemi particolarmente complessi per l'autenticazione dell'utenza. Fatta questa operazione ci spostiamo invece nella sezione di configurazione della rete guest, andiamo a impostare anche in questo caso un singolo SSD che tramite band steering verrà poi utilizzato su entrambi le radio a 2.4 GHz e qui è evidenziata l'opzione che permette di separare il traffico quindi togliendo il flag dalla terza opzione di configurazione andremo ad attivare la client isolation su ogni dispositivo collegato sulla rete guest e andremo a impedire l'accesso alla rete locale. In questo momento l'opzione è unica quindi se disabilito la funzionalità ottengo quello che tipicamente è il comportamento di una rete guest quindi io non voglio che la rete guest possa accedere alle mie risorse interne e evito che tutti i device registrati su quella rete possano vedersi tra di loro quindi fondamentalmente quello a cui avranno accesso è solamente l'accesso di internet che è offerto attraverso l'interconnessione la porta a WAN a tutti gli effetti. signor Fabio chiede quindi gli orbi vedono il passaggio degli utenti nello spazio di lavoro e si passano i client wireless esattamente questa è una domanda relativamente alla funzionalità di seamless roaming quindi di base non viene richiesta la riautenticazione del client in quanto il sistema mantiene le informazioni del client nel centro. Altra domanda che è stata formulata ma il router è anche access point oppure i client si connettono solo all'unità satellite? No 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 il router è anche access point dal punto di vista di installazione io nel caso in cui fosse disponibile il solo router ma attualmente non lo è nel senso che viene venduto il kit di un router e un satellite il router è anch'esso un sistema di accesso per la parte wifi quindi fondamentalmente non perdiamo connettività wifi con il router il router potrebbe essere anche autonomo lavorare da solo per l'accesso wifi i satelliti ci permettono di andare ad ampliare la copertura della nostra rete wifi mantenendo la capacità in termini di prestazioni quindi capacità di forward del traffico legati appunto alla caratteristica del backhaul dedicato con radio dedicata a tutti gli effetti proseguiamo e andiamo a vedere dal punto di vista del monitoraggio quello che ci viene permesso ovvero la possibilità di vedere i dispositivi collegati i dispositivi collegati ovviamente vengono visualizzati in modalità globale quindi ho possibilità di vedere tutti i device a prescindere dal fatto che la connessione sia su un satellite oppure su un router quindi ho la possibilità ovviamente di avere un monitoraggio dal punto di vista visivo di vedere i dispositivi connessi di vedere in quale modalità sono connessi e vedremo che potremmo anche disporre dal punto di vista di sicurezza dei dispositivi connessi andando ad attivare un controllo di accesso che vedremo poi più avanti all'interno di ogni singolo dispositivo connesso abbiamo la possibilità eventualmente quindi puntando all'oggetto quindi cliccando sul nome del device name che viene intercettato dal sistema di editare e cambiare il nome del device in maniera da associargli magari un nome più intellegibile e che ci permetterà fondamentalmente di riconoscere il dispositivo collegato alla nostra rete in termini che cosa? In termini poi di eventuale messi in blacklist del dispositivo nel caso di cui ritenessimo non autorizzato ad accedere alla nostra rete wifi a prescindere dal fatto che questo transiti tramite rete guest oppure tramite la rete interna e due per andare anche a gestire le reservation a livello di DHCP server quindi fondamentalmente questo ci permette anche di mantenere un controllo su quello che è la quantità di client che accedono e che utilizzano la rete wireless come vedete evidenziato qua l'access control ci permette di entrare in una sezione dedicata dove abilitiamo la funzionalità di access control vedete il flag abilitato e abbiamo fondamentalmente due tipologie di comportamento o di permettere tutti i nuovi device che si collegano alla rete come comportamento di default oppure di bloccare tutti i nuovi device alla connessione ovviamente tra le due quella che mi permetto di suggerire è la prima ovvero permettiamo tutti i client di collegarsi alla rete quindi identifichiamo i client quindi andando a valutarne l'autorizzazione di accesso alla rete ed eventualmente interveniamo andando a bloccare i client quindi editando fondamentalmente i client le righe dei client che sono stati rilevati dal sistema abbiamo la possibilità attraverso i pulsanti di blocco di impedire l'accesso alla rete wifi a tali dispositivi quindi con la possibilità poi di vedere attraverso queste due voci che sono posizionate sulla parte bassa della slide la lista dei dispositivi che hanno autorizzazione ma che non sono attualmente connessi alla rete oppure di vedere la lista dei dispositivi bloccati che attualmente non stanno ovviamente tentando accesso alla nostra rete a tutti gli effetti il blocco si applica in questa modalità quindi andiamo a puntare al dispositivo con nome device test win 10 lo fleghiamo clicchiamo sul pulsante blocco e andiamo in questo modo a inibire l'accesso alla rete al dispositivo qualora ci siano poi dei tentativi di accesso da parte di questo dispositivo comunque alla nostra rete wireless abbiamo la possibilità anche poi di attivare degli alert tramite inoltre di messaggio di posta elettronica andiamo a vedere invece qualche funzionalità legata alla parte di menu di configurazione avanzata quindi come ben sapete tutti i nuovi prodotti di ultima generazione di Netgear hanno due menu un menu base e un menu avanzato nella parte avanzata abbiamo quattro sezioni importanti la sezione setup dove ovviamente andremo a definire le classiche configurazioni dell'interfaccia internet della configurazione internet dell'interfaccia one nella parte lan e via dicendo nella parte di security ovviamente andremo ad attivare la protezione blocco di siti operazioni di questo genere oppure l'attivazione parente al control che potrebbe magari essere interessante in contesti non particolarmente complessi poi nella parte di amministrazione troviamo le funzionalità avanzate di gestione del nostro sistema spostiamoci dalla configurazione one setup e andiamo a vedere quelle che sono le opzioni disponibili qui abbiamo la possibilità di disabilitare l'eventuale protezione da denier service di poroscan sull'interfaccia one ovviamente non vi consiglio di togliere questo flag quindi è una protezione abilitata di default abbiamo la possibilità eventualmente di andare a definire un server del dmz quindi abilitando il flag su questa opzione e andando a compilare l'indirizzo ip della macchina il traffico entrante sulla porta one del sistema potrà essere ridirezionato verso l'indirizzo ip esplicitato e quindi potremmo andare poi tramite le regole di firewall a proteggere la macchina quindi a garantire magari l'accesso nei confronti di questo sistema su particolari porte per particolari servizi come vedete il sistema non risponde di default sulla porta one tramite i cmp quindi tramite il ping se volessimo invece abilitare la risposta dovremmo andare a porre il flag dopodiché abbiamo una informazione di gmp proxing quindi la possibilità di disabilitare il gmp proxing che è funzionalità per bloccare il traffico multicast che viaggia tra la rete esterna quindi tra il mondo internet e la nostra rete interna e la possibilità di lavorare anche sull'MTU MTU size che ovviamente nel suo valore standard di 1500 byte che può essere aumentato qualora la connessione nei confronti del dispositivo gateway che sta a monte che permetta una gestione di MTU superiore. Alla parte il NAT filtering qui abbiamo la possibilità di abilitare, di disabilitare quella che è la condizione di default ovvero di NAT protetto mettendolo in modalità open e quindi rendendolo un po' meno sicuro in quanto il NAT non viene protetto in modalità completa. Per quello che riguarda invece la gestione dell'eventuale SIP che attraversi il sistema la disabilitazione dell'application layer gateway SIP potrebbe a volte risolvere il problema ma non vedo in questo contesto un utilizzo di trunk SIP che attraversi fondamentalmente il nostro sistema. Per la parte di router DHCP integrato con DHCP server attivato ovviamente quello che vi ho accennato precedentemente è quello di definire delle reservation e quindi di fare in modo che dispositivi client che si collegano tramite un sistema DHCP client locale attraverso la reservation possono andare a acquisire sempre lo stesso indirizzo IP e quindi di non preoccuparmi di andare a fare una configurazione statica dei device che è abbastanza senza senso su dispositivi di tipo wifi e quindi di andare a alloccare in questa modalità l'indirizzo IP che associamo al dispositivo e per eventualmente andare a associare poi delle politiche di accesso particolare nei confronti dei servizi sulla rete. Per quello che riguarda la reservation ovviamente possiamo compilare secondo necessità la nostra tabella di riservazione in maniera tale che il sistema appunto gestisca questo assegnava questa assegnazione indirizzo IP nella stessa stregua della configurazione statica quindi quei client come se fossero configurati in modalità statica a tutti gli effetti quindi ogni volta che il MAC address associato al device X si collegherà tramite client DHCP quindi il DHCP server risponderà associandogli sempre all'indirizzo IP esplicitato per la parte di security andiamo a vedere qui invece il controllo d'accesso che abbiamo accennato precedentemente controllo d'accesso e quindi la possibilità di bloccare dispositivi che non riteniamo essere autorizzati ad accedere alla nostra rete. Abbiamo già visto molto velocemente come andare a abilitare vedete fondamentalmente l'abilitazione della funzionalità a livello globale, la regola di default per quello che riguarda l'accesso o il blocco dei sistemi e dopodiché abbiamo la possibilità di vedere i dispositivi che sono permessi, che hanno il permesso di accedere, quindi autorizzate l'accesso alla nostra rete e eventualmente dispositivi che sono stati messi in blacklist oppure no, in questo caso è dispositivo che non è collegato alla rete ma è nella lista dei dispositivi permessi ma avremo possibilità anche di gestire l'eventuale blacklist e quindi rimuovendo l'eventuale blocco a dispositivi che poi necessitino fondamentalmente di poter accedere perché sono stati autorizzati all'accesso stesso. Come ben sapete in un contesto qualsiasi dove attiva una rete wifi nel dimensionamento della rete wifi contiamo solitamente quelle che sono le risorse aziendali e le risorse produttive ma normalmente quando la parte di autenticazione sulla rete wifi non è legata a sistemi tipo enterprise la proliferazione di dispositivi che possono collegarsi alla rete può ovviamente far crescere in modalità elevate poi sappiamo benissimo che ogni dispositivo mobile, tablet o smartphone che sia ha tutta una serie di funzionalità anche con il telefono appoggiato sulla scrivania auto aggiornamenti di app, continue comunicazione legate poi al sistema di app installate all'interno possono generare grossi volumi di traffico e quindi potrebbe essere necessario autorizzare questo tipo di utilizzo quindi il bring your own device deve essere una politica ovviamente decisa all'interno dell'azienda stessa. Dal punto di vista appunto della gestione una volta che abbiamo autorizzato un dispositivo possiamo rimuovere l'autorizzazione così come possiamo quindi rimuovere dalla wait list fare anche una rimozione dalla black list e fare in modo che al prossimo tentativo di accesso alla nostra rete il sistema possa avere autorizzazione e quindi possa accedere con successo. Andiamo a vedere per la parte di protezione del blocco dei siti quelle che sono le opzioni a disposizione ovviamente non stiamo parlando di un content filtering elevato ma quello che è possibile applicare in termini di controllo è applicare dei controlli basandoci su parole chiave quindi blocchi su parole chiave oppure abbiamo la possibilità di elencare fondamentalmente dei domini insieme alle parole chiave che ci permettono di avere fondamentalmente una lista di siti negati come potete vedere abbiamo poi la possibilità di definire un eventuale indirizzo IP che possa essere autorizzato a raggiungere quelle destinazioni che invece normalmente sono bloccate. Un'altra funzionalità che possiamo utilizzare che è un pochino forse più efficace dal punto di vista del controllo e fondamentalmente lo vedremo dopo il blocco dei servizi i servizi qui andiamo proprio ad esplicitare la tipologia di servizio andiamo a esplicitare l'accesso di tipo HTTP, un accesso di tipo FTP quindi esplicitando la porta TCP a cui il servizio fa riferimento e abbiamo la possibilità di dare indicazione di bloccare su base temporale questo servizio oppure di bloccare per sempre questo specifico servizio nell'utilizzo continuativo quindi questo è un ulteriore elemento di controllo per filtrare il traffico. La schedulazione viene definita in questa particolare schermata dove possiamo ovviamente selezionare i giorni nei quali debba essere attiva il controllo temporale e la fascia oraria di inizio e di fine di blocco. Ovviamente il tutto deve essere poi contestualizzato con una definizione di time zone che sia congruente alla sede di installazione e abilitando anche l'aggiustamento automatico legato all'ora legale in maniera tale da avere fondamentalmente un giusto timing sul sistema stesso. Dopodiché il sistema di alert in tramite email ci permette fondamentalmente di avere un controllo su quello che sono i log all'interno del nostro sistema che possono essere inoltrati tramite posta elettronica e di avere anche notifiche ad esempio su tentativi di accesso da parte di qualcuno su siti che siano bloccati quindi con una notifica e quindi di avere un alert interno quindi è dal punto di vista del monitoraggio sicuramente una funzionalità aggiuntiva a disposizione. Per far sì che questo schema di alert funzioni ovviamente dobbiamo esplicitare un server SMTP che sia autorizzato all'inoltro di questa tipologia di email quindi tipicamente qui dovremmo appoggiarci all'SMTP o un SMTP interno se presente in un server all'interno dell'ufficio stesso o a servizi di SMTP che possono essere quelli forniti dalla carrier che ci dà connettività internet tramite autenticazione quindi con l'associazione di una casella di posta, un username, una password che permetta quindi il forward attraverso il protocollo SMTP di questi messaggi di notifica. notifiche che ovviamente includono anche tutta la parte di log del sistema stesso. Per quello che riguarda il log possiamo dare indicazione o di schedulare l'inoltro del log su base temporale altrimenti il mio consiglio è di forwardare il log appena questo è full in quanto se facessimo una schedulazione di tipo temporale e la memoria interna dei sistemi non essendo infinita potremmo perdere alcune righe di log qualora ci sia ovviamente sovrascrittura dell'informazione quindi il consiglio è quello di inoltrare immediatamente il log non appena questo sia pieno e quindi di avere a disposizione tutte le notifiche generate all'interno del sistema. un'operazione che non è all'interno della slide ma che voglio farvi vedere è l'accesso un controllo d'accesso quindi un content filtering che è il parental control che ovviamente non è una soluzione fondamentalmente di tipo enterprise ma ci permette comunque di andare a abilitare degli ulteriori controlli su quello che è la navigazione internet basandoci su categorie di prodotto andiamo a vedere come abilitarlo fondamentalmente l'abilitazione del servizio lo facciamo attraverso GNI GNI che è un software per client quindi lo vediamo installato sul mio computer io sono collegato quindi mi sono autenticato nei confronti del router e dallo stesso all'interfaccia GNI vedo quelle che sono le informazioni potrei anche modificare le configurazioni relative alle reti wifi ma la cosa puntiamo al parental control GNI è presente anche come soluzione per app per dispositivi mobili e quindi potete poi avere lo stesso tipo di funzionalità disponibile di controllo disponibili anche su sistemi mobili attiviamo praticamente questo sistema di controllo della navigazione attraverso un servizio che è appoggiato a OpenDNS quindi fondamentalmente è un servizio che vi viene offerto gratuitamente da Netgear adesso io vado a registrare con un account di cui già dispongo ad attivare la funzionalità di controllo e ho attraverso ovviamente un'abilitazione dei servizi la possibilità di andare a definire i livelli di protezione che io voglio abilitare nei confronti appunto dell'accesso ad internet OpenDNS come ben sapete è un fornitore sul mercato che offre appunto servizi di controllo sulla destinazione sul traffico basandosi proprio sui servizi DNS e quindi andando a identificare tipologie a classificare le tipologie di destinazione e che possono essere mascherate, filtrate, nascoste per la navigazione quindi se il sistema ci facesse collegarsi al sistema OpenDNS volevo farvi vedere i livelli precostituiti ma anche il filtro custom che può essere abilitato sul sistema niente, rifacciamo l'operazione andiamo a vedere fondamentalmente poi riproviamo l'operazione tra qualche istante la mappa di rete che abbiamo visto presente anche sulla console del nostro sistema può essere visualizzata anche tramite la app che installiamo sulla stazione di controllo di amministrazione del nostro sistema da qui abbiamo poi la possibilità anche per singolo oggetto ecco, il problema abbiamo scoperto ovviamente il bello della diretta lasciatemi rilanciare Netgear Genie ok, la mappa di rete ovviamente il sistema essendosi scollegato ha perso le informazioni deve ricollettare le informazioni dei dispositivi collegati al nostro sistema Orbi proviamo in questo modo ok verificazione dell'attivazione dell'iParental Control aveva già fatto un accesso attraverso il mio account con cui avevo fatto la protezione che è stata impostata è una protezione di livello minimo attenzione è disattivato attualmente il servizio voglio farvi vedere quelle che sono le impostazioni possibili quindi ritentiamo il login l'accesso nei confronti dei server ok, ecco questi sono i profili disponibili posso disabilitare il blocco posso abilitare una protezione minima solo da phishing posso abilitare una protezione bassa protezione da pornografia e phishing oppure prodotti e contenuti per adulti attività illegale e phishing protezione alta oppure la personalizzazione dove posso andare a indicare quelle che sono le categorie di siti che io voglio bloccare ovviamente questo tipo di controllo è come opera è appoggiato a OpenDNS quindi lavora sui DNS nel momento in cui attiviamo il servizio DNS sul nostro sistema Orbi automaticamente il sistema andrà a cambiare DNS utilizzati per la risoluzione delle destinazioni imponendo questi DNS poi per la navigazione dei client nel caso in cui però l'utente fosse sgamato potrebbe modificare gli indirizzi DNS del proprio client wireless ma qui ovviamente bisogna avere delle conoscenze sicuramente un gradino più elevate andando a bypassare l'utilizzo appunto del DNS che è in modalità resolver con l'IP del dispositivo router e che dietro ovviamente utilizza il servizio di OpenDNS nel caso in cui io bypassassi l'utilizzo del DNS andrebbe a decadere anche la tipologia di filtro impostata attraverso appunto questo servizio questo è un servizio completamente gratuito quindi quantomeno è possibile abilitare un minimo di content filtering su quella che è la navigazione di tipo internet a questo punto lascerei spazio alle vostre domande il signor Carlo chiede che velocità di trasferimento posso aspettare se dovessi collegare un readiness ad un client Orbi per quello che riguarda la capacità di comunicazione cioè la capacità di throughput abbiamo visto che per collegamenti a 5 gigahertz la velocità massima d'accesso è di 866 megabit per secondo quindi ovviamente dipende dalla quantità di client collegati e dalla velocità con cui il client riesce a collegarsi nei confronti del router o nei confronti del satellite quella che è la condizione garantita è che il backhaul non sia saturabile in configurazione di due sistemi collegati quindi di un satellite collegato al sistema centrale quindi anche nel caso in cui ci sia lo sfruttamento di 400 megabit per la parte a 2.4 gigahertz e 866 megabit come facciamo 1 giga punto 3 sono valori teorici di utilizzo totale tra le due a radio il backhaul ha una portata di 1.7 gigabit quindi non avremo fondamentalmente rallentamenti dovuti appunto alla connessione di backhaul dal punto di vista di accesso a risorse dove la banda è elevata ovviamente qua dobbiamo fare una valutazione sulla base della velocità con cui il client riesce a collegarsi nei confronti del punto di accesso e ovviamente dal numero di client collegati quindi questa informazione è variabile considerando una connessione che sia diciamo un singolo client 5 gigahertz con una connettività a 800 megabit nei confronti del satellite mi aspetterei di avere il massimo delle prestazioni possibili di comunicazione quindi dipenderà poi anche dalla capacità di throughput del readiness quindi secondo me andremo a saturare la capacità fondamentalmente del NAS adesso dipende poi dalla tipologia di dispositivo a me interessa le indicazioni di massima qui l'indicazione di massima dipende dalla capacità di asse se consideriamo un NAS che possa in termini di velocità di punta fare trasferimenti a 40 50 megabyte per secondo quindi moltiplicato per 8 a 400 megabit per secondo reputo che attraverso una connessione wireless di avere un throughput che non sia proprio identica alla connessione di tipo cablato ma che molto ci si avvicini quindi di avere un 40 megabyte per secondo di throughput a tutti gli effetti considerate che Orbi come soluzione è stata pensata per il supporto di connessioni di tipo multimediale ovviamente il multimediale non comporta così grossi volumi di trasferimento dati ma ovviamente necessita di meccanismi che garantiscano appunto la copertura che evitino che ci siano colli di bottiglia nella nostra struttura wifi meccanismi di quality of service che non ho visualizzato ma il quality of service qua è abilitato attraverso la modalità WMM quindi con la cooperazione di quello che è il client wireless e che quindi colora fondamentalmente il traffico dando indicazione di quale è il traffico a priorità elevata quindi andando a impostare un sistema di quality of service che garantisca indicativamente la modalità di prioritizzazione del traffico stesso spero che la risposta sia stata sufficientemente è chiaro che l'indicazione è di massimo e questo poi dipende dal contesto molte volte ci ritroviamo anche a gestire grossi volumi di traffico sulla rete cablata e di fatto non abbiamo mai un comportamento che sia costante da parte delle nostre risorse considerando ovviamente una connessione singola e considerando la condizione ottimale di esercizio del sistema possiamo ottenere questa tipologia di risultato dal punto di vista di antenne non vi ho accennato per quanto riguarda le antenne delle due radio 2,4 e 5 gigahertz per l'accesso i sistemi sono a doppio stream quindi fondamentalmente sono dei 2 per 2 e quindi permettono di ottenere i 300 megabit per secondo sulla radio 2.4 gigahertz e 866 megabit per gigabit per secondo sulla la radio 5 gigahertz la radio invece che gestisce il backhaul è una radio di tipo 4x4 quindi fondamentalmente ha 4 stream spaziali e che quindi permette l'aggregazione di 4 canali da 433 per arrivare al giga e 7 che abbiamo accennato nella configurazione nella presentazione iniziale nella slide iniziale il signor Zahir chi è sperando di non essermi perso un pezzo della presentazione si installa più di un satellite quindi a quel punto avrei un unico SSD per tutta l'azienda posso gestire i router e i vari satelliti in modo centralizzato dal pannello di configurazione si è già detto no non l'ho accennata ma va da sé che il router sia l'unità centrale di configurazione quindi fondamentalmente una volta che io ho fatto la registrazione dei satelliti tutta la configurazione viene fatta sul sistema centrale quindi è una sorta di controllore per i satelliti remoti quindi in configurazione attuale la configurazione massima prevista consigliata è quella di utilizzare al massimo due satelliti anche se in realtà dal punto di vista della tecnologia il numero massimo reale di satelliti configurabili è di quattro cosa succede nel momento in cui andiamo a configurare quattro satelliti però ovviamente quei quattro canali aggregati che contribuiscono ad avere un backhaul di 1.7 gigabit per secondo verranno divisi per la connessione dei satelliti quindi fondamentalmente andremo ad avere un backhaul ridotto in termini di prestazioni nella configurazione con singolo satelliti non abbiamo collo di bottiglia con doppio satelliti abbiamo un over subscription molto limitata in quanto ovviamente avremo un 866 megabit per secondo di comunicazione in backhaul tra ogni satellite nei confronti del router centrale la domanda era più che sensata perché non ho parlato di gestione centralizzata l'ho dato per scontato dal punto di vista di accesso ogni singolo satellite ha una propria interfaccia web all'interno della quale però posso fondamentalmente vedere l'elenco dei client che sono adesso connessi e posso fare un eventuale aggiornamento manuale del firmware del satellite queste sono le uniche opzioni disponibili sull'accesso al satellite poi tutta quanta la politica tutte le quante le politiche di configurazione di autenticazione sicurezza del resto è fatto attraverso il sistema router orbi che diventa poi il controllore chiamiamolo controller anche se non trattasi di un controller vero e proprio mi sembra di aver risposto a tutte le domande nel frattempo che magari formuliate ulteriori domande vi ricordo la sessione è in corso di registrazione verrà poi pubblicata nella giornata di lunedì sul portale youtube nella playlist relativa ai webinars di netbeer nella stessa giornata riceverete poi una mail di ringraziamento questa mail di ringraziamento avrà il link diretto alla registrazione avrà un link per scaricare le slide che abbiamo utilizzato per la presentazione stessa e ci sarà anche un link per scaricare un attestato di partecipazione al corso stesso non ci sono ulteriori domande spero che il webinar sia stato sufficientemente esauriente per quello che è la vostra la vostra esigenza di scoprire come utilizzare orbe anche in ambito professionale il signor Vincenzo che mi sta segnalando problemi nella connessione quindi ha potuto seguire poco chiede i repeater quanti repeater si possono utilizzare non parliamo di repeater orbe i dispositivi satellite non sono repeater perché il sistema orbe utilizza una banda dedicata per la comunicazione tra i dispositivi la configurazione consigliata è di massimo due satelliti no non c'è problema voglio diversificare differenziare il discorso tra repeater e satellite perché c'è una differenza tecnologica il repeater come ben sapete utilizza la banda di accesso per collegarsi al al sistema centrale qui invece la banda di accesso viene utilizzata esclusivamente per dare accesso ai client e la terza radio dedicata invece comunica con il sistema al signore nello specifico ripeto che la sessione è in corso di registrazione quindi lunedì riceverete poi gli estremi per accedere alla registrazione quindi al filmato offline e riceverete anche il link per scaricare la presentazione utilizzata dal punto di vista tecnico il numero massimo di satellite è 4 consigliato non più di 2 satellite considerando che ogni dispositivo ha una copertura di circa 150 metri quadrati però ovviamente il numero di satellite che aumenta significa in un qualche modo di andare a ridurre la capacità del backhaul quindi ovviamente non consiglierei di andare oltre ai 2 satellite in termini di configurazione per non perdere le prerogative laddove si pensa ad una soluzione con 4 satellite e router consiglierei fondamentalmente di di pensare ad una soluzione con access point access point sempre in tecnologia 11CAC utilizzando magari la modalità ensemble non non vorrei spingermi fino a questo tipo di implementazione perché sarebbe un'implementazione probabilmente forzata del nostro sistema grazie per la partecipazione al webinar vi rinnovo l'appuntamento non alla prossima settimana in quanto la prossima settimana è settimana del ponte dell'immacolata visto l'avvicinarsi anche del fine giornata lavorativa auguro a tutti quanti un tranquillo e sereno weekend con i vostri cari e vi aspetto tutti quanti al prossimo appuntamento che sarà un appuntamento di webinar prenatalizio grazie ancora e a risentirci a presto no a a a a a a Grazie a tutti.